ciao prataroli hai più di 50 anni bene oggi ti mostro come lubrificare correttamente la catena della bici ci vuole che innanzitutto l'olio poi la catena e naturalmente gli occhiali quindi inforti gli occhiali aggiuntivi e cerchi la falsa maglia eccola qui e da qui comincio a mettere una goccia d'olio per ogni maglia di catena e ora il gioco è fatto ciao prataroli 50 anni